Ha chiuso bene il Bari che prova ancora con Cassano posizione regolare Grande controllo in velocità di Cassano, in varia di rigore, Cassano ancora rientra sul destro Antonio! Cassano! 2 a 1! L'abbiamo visto, due grandissimi giochi Che gol Fabio, che gol! Lancio lungo, ha stoppato, ha controllato bene, ha dribblato ancora all'interno e poi l'ha messa dentro Il Bari è in vantaggio meritatamente Secondo me è quello che sta provando adesso Cassano Ma lo può spiegare neanche lui Non lo può spiegare neanche lui Chissà quanta gente avrà in quella curva lì Abbiamo dato un migliore in campo in Innaia Ma anche questo ragazzo, dopo questo gol, anche lui si meriterebbe la palma del migliore in campo Due ragazzi interessanti